Ormai ci siamo, si sta avvicinando l'imponente progetto Nuvolosa, sta crescendo anche in periodo di pandemia, ce ne parla naturalmente il cuore di questo progetto, l'assessore Gabriella Bessona, ci racconti tutto. Allora sì, quest'anno devo dire che siamo molto più soddisfatti, perché nonostante le ultime due edizioni, che comunque col fatto della pandemia siamo stati molto limitati, il 5-6 è veramente da vedere questa mostra, perché la qualità dei progetti che sono arrivati, quindi delle tavole di fumetti che sono arrivati, sono veramente notevoli. Mi diceva in fase di giudizio il nostro direttore artistico Statella, che Nuvolosa sta veramente adesso andando proprio, se ne parla, nelle varie fiere e quindi per noi è una grande soddisfazione. Allora diciamo che quest'anno hanno partecipato più dell'80% delle regioni italiane, quindi su 21 ne hanno partecipate 18, e tra l'altro proprio in virtù del fatto che le tavole sono talmente belle, che abbiamo aumentato di due progettisti, di due disegnatori, quindi il catalogo non sarà più da 10 tavole, ma bensì da 12 autori, ma non solo a livello nazionale, perché anche la sezione, quella locale, con i ragazzi del Quintino Sella, sono arrivati dei lavori decisamente di alta professionalità. Quindi anche qui, anziché fare una premiazione solamente di tre progetti, ne premiamo sei. Quindi questo già vuol dire che Nuvolosa sta andando verso la direzione giusta per diventare un evento ancora più conosciuto nell'ambiente. Ma è anche la possibilità di avere, di conoscere l'ambiente e quindi di trovare anche occupazione presso le case editrici e quant'altro. 5-6, quest'anno facciamo veramente i due giorni, quindi il sabato 5 ci sarà la premiazione, l'apertura della mostra e poi tutto il giorno successivo, la domenica, la visita e con i 34 autori. Allora, quindi, tantissimi gli aspetti interessanti, uno sbocco addirittura nel mondo del lavoro, premi in denaro, l'ospite d'eccellenza non manca nemmeno quest'anno. Sì, allora, l'ospite d'onore, diciamo che quest'anno non abbiamo fatto una personale, ma abbiamo inserito due grandi autori, di cui una è la Zuccheri, che comunque non ha mai partecipato a grandi eventi, però, diciamo, forse per il piacere o comunque sia per la novità, l'avremo proprio come ospite. Poi c'è il grandissimo Dino Risi, che nonostante i suoi 85 anni, ha gradito molto l'invito e sarà presente con noi.